Cittadinanza onoraria per 5 bambini nati in Italia da genitori stranieri. La cerimonia di consegna voluta dal comune di Civitella in Valdichiana si è svolta nella scuola arcobaleno di Tegoleto con la presenza del sindaco Ginetta Menchetti in occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In più sono stati piantati nuovi alberi nel giardino del dialogo accanto all'orto della scuola per la campagna Piantare un albero per ogni nuovo cittadino promossa da Lega Ambiente. Speriamo la cittadinanza italiana onoraria a Cian e Tian Li. Era un bel giorno pieno di sole, l'aria era gonfia di mille parole che si intrecciavano come acuiloni portando in alto speranze e opinioni. Erano voci di bimbe e bambini giunte da luoghi lontani e vicini e ogni lingua volevano dire su ci dovete stare a sentire.